Continua l'impegno italiano nella missione Balti Eagle. Open day alla scuola militare Giulio Due. Giurano i primi marescialli a nomina diretta. Bentornati al consueto appuntamento con l'informazione aeronautica. I velivoli italiani impegnati in Estonia hanno volato le prime 100 ore. Gli Eurofighter del quarto e del trentasesimo stormo saranno impegnati fino al mese di maggio ad Amari, vicino Tallinn, per contribuire alla difesa dei cieli estoni nell'ambito della missione NATO di Air Policing, finalizzata a preservare lo spazio aereo alleato. L'Air Policing, lo ricordiamo, è una capacità di cui si è dotata la NATO e consiste nell'integrazione in un unico sistema di difesa aerea e missilistico dei paesi membri. Una scuola militare aeronautica per i più giovani. Si chiama Giulio II, si trova a Firenze e, in vista del prossimo bando di concorso rivolto a studenti del liceo classico e scientifico, accoglie il pubblico per una visita. Nei giorni 10 e 25 febbraio la scuola aprirà le sue porte ai potenziali candidati al concorso. Nell'occasione sarà inoltre presentato il piano dell'offerta formativa e le attività collaterali, da quelle sportive a quelle a carattere aeronautico come la familiarizzazione con il volo. Per partecipare all'Open Day, in una delle due giornate di febbraio, è necessario inviare una mail all'indirizzo in sovraimpressione. Fedeltà alla Repubblica e salvaguardia delle libere istituzioni. È l'impegno, se non cito, lo scorso venerdì alla Scuola Marescialli di Viterbo, nel giuramento dei primi 5 marescialli, arruolati con nomina diretta nei confronti dei doveri legati al nuovo status. Il corso di sei mesi che i cinque nuovi sottofficiali stanno frequentando nell'istituto aggiungerà ai loro titoli di laurea anche la prevista formazione militare. L'incorporamento a nomina diretta è una novità assoluta per il personale del ruolo marescialli, che, per la prima volta nella storia della Forza Armata, vede l'arruolamento di candidati già in possesso della laurea, direttamente con il grado di maresciallo di terza classe. Per oggi è tutto, video news e termina qui, arrivederci alla prossima edizione. Grazie.